Troppo brutta per essere vera. A Piacenza l'Aquila perde la terza partita consecutiva, aumentando delusione e rabbia nell'animo dei tifosi. Rosso-blu senza mordente e con le gambe imballate. Una prova al limite del decoro, che rischia di rovinare quanto fatto di buono nel corso del campionato, nonostante il fallimento play-off. Quel che più lascia interdetti è l'atteggiamento in campo, perché in fondo il risultato ai fini della classifica serviva più ai padroni di casa che agli aquilani, ormai con nulla o poco da dover chiedere alla stagione. Zavettieri lascia ancora a casa Maccarone e Diuric. Nel 4-2-3-1 di base, in difesa, all'affianco di Capitan Pomante, gioca Carini in luogo dello squalificato Zaffagnini. A destra torna Scrugli, mentre in mediana agiscono De Francesco e Del Pinto. Senza triarico infortunato nel tridente avanzato, spazio a Pacilli, Corapi e San Domenico. Sorpresa nel ruolo di terminale offensivo con perna titolare, Virdis e Pozzebonni in panchina. La cronaca. Prima chance al sedicesimo di marca locale. Cross di Matteassi dalla destra, svirgola il pallone in spaccata Scrugli, Alessandro di collo di poco a lato. Attacca ancora la propria scienza che alla minuto 27 confeziona un'altra occasione. Schiavini ci prova dai 20 metri ma Zandrini gli dice di no in tuffo. L'Aquila si vede dopo la mezz'ora. Bella giocata a destra di Sassà San Domenico, sterzata, cross nel mezzo, Corapi gira di testa, senza fortuna. La ripresa inizia con una nuova chance per il rosso-blu di Zavettieri. Corner dalla sinistra, incornata di Pomante, alta sopra la traversa. L'occasione più ghiotta, tre minuti più tardi. San Domenico, pennella dalla destra, perna, stacco a botta sicura, palla che fa la barba al palo. L'Aquila inizia a sbandare e concede prateria alle ripartenze dei padroni di casa. Come al 54esimo, quando Alessandro in progressione va via a Pomante, Zandrini però è strepitoso a chiudergli la porta in faccia. Al minuto 62 il portiere aquilano si supera invece sulla splendida vola di Barbie. Tre giri di lancette più tardi, azione in fotocopia per la propria scienza. Ancora Alessandro involata verso la porta, ancora Zandrini supera a salvare il punteggio. Al terzo tentativo però i padroni di casa passano in vantaggio. Alessandro imbucata per Matteassi, stavolta Zandrini perde i poteri magici. La palla resta tra i piedi della mezzala che in spaccata gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi. Reazione? Neanche a parlarne, anzi qualche minuto dopo ancora Alessandro ci prova stavolta dalla distanza ma Zandrini è attento. Finisce 1-0, tre punti di platino per la propria scienza in ottica salvezza. Per l'Aquila una sconfitta che rende ancora più amaro il finale di stagione.